Buonasera Milano, grande vittoria del Milan a Firenze oggi, Milan che a un certo punto stava anche perdendo la partita ma con carattere, con grinta, con cuore ribalta e va a vincere con pieno merito dando inizio alla rimonta, alla rimonta Scudetto che adesso vede il Milan a meno 6, da meno 9 è passato a meno 6, seguendo esattamente ciò che aveva detto Ibrahimovic nell'ultima intervista, ovvero dopo l'eliminazione dell'Europa League ci sarà la rimonta del Milan che andrà a vincere lo Scudetto a vele spiegate. Tra l'altro la Juve ha anche perso oggi, addirittura in casa col Benevento, stasera Roma e Napoli giocano l'una contro l'altra, quindi anche altre squadre con velleità di rimonta punti verso il Milan dovranno cedere dei punti, quindi direi giornata assolutamente favorevole al Milan. Fatemi sapere qui sotto, secondo voi, entro quante partite il Milan riuscirà a sorpassare l'Inter e andare a vele spiegate verso la vittoria dello Scudetto. Un saluto a tutti, iscrivetevi al canale e mi raccomando commentate.